Buonasera e benvenuti all'edizione delle 19 dal notiziario di prealpina.it. Nella giornata trionfale dell'Italia alle Olimpiadi, con le due favolose medaglie d'oro conquistate da Marcel Jacobs nei 100 metri e da Gianmarco Tamberi nel salto in alto, anche Varese si è ritagliata la sua fetta di gloria, merito di Niccolò Martinenghi. Il nuotatore azatese che compie proprio oggi 22 anni si è regalato la medaglia di bronzo nella staffetta 4% mista, nuotando da par suo la frazione rana. Ora non gli resta che rientrare in Italia dove riporterà due medaglie che valgono da sole un'intera vita sportiva. La notte tra ieri e oggi è passata senza problemi. Non c'è stato il temuto ennesimo diluvio che aveva portato a evacuare precauzionalmente le abitazioni di una cinquantina di persone in località Cadei Monti a Gavirate e così nella mattinata di oggi è iniziata la costruzione del ponte militare che garantirà i collegamenti nella via Bravo Livio, una delle più colpite dal nubifragio di settimana scorsa. Sul posto sono impegnati decine di volontari della protezione civile sotto la supervisione della provincia. Si è presentato al commissariato di polizia di via Ugo Foscolo Bustorsizio nel cuore della notte dicendo di essere stato aggredito. Uno straniero di 51 anni si è rivolto ai poliziotti per essere soccorso e per denunciare l'aggressione da parte di un connazionale. Gli agenti, vedendo che l'uomo aveva necessità di cure, prima di tutto hanno chiamato gli operatori del 118 che si sono precipitati al commissariato per curare il 51enne. Lo hanno stabilizzato e caricato sull'ambulanza per affidarlo poi alle cure dei medici dell'ospedale. Ha riportato escoriazioni e contusioni varie. Intanto gli agenti hanno anche raccolto la sua segnalazione. Al momento però non risultano esserci denunce. Tuttavia la deposizione della vittima permetterà ai poliziotti di ricostruire l'accaduto e verificare la reale dinamica del diverbio, nato a quanto pare per futili motivi, che ha portato poi all'aggressione. E ora una notizia di politica. La Lega schiera i big nella corsa verso Palazzo Estense. Francesca Brianza, vicepresidente del Consiglio regionale, è infatti candidata nella lista che sostiene insieme alle altre del centrodestra l'aspirante sindaco Matteo Bianchi. Oggi c'è stato anche l'annuncio che nella stessa lista sarà presente Stefano Angei, già coordinatore dei giovani del carroccio e coordinatore degli studenti a livello regionale. Francesca Brianza era stata tra i papabili per la candidatura a sindaco, prima della scelta che è caduta sul parlamentare Bianchi. È comunque coinvolta nella sfida elettorale varesina. Correrà per un posto in Consiglio comunale, perché non c'è incompatibilità con il ruolo di vicepresidente del Consiglio regionale. Oggi a Borsano di Bustarsizio corsi di addestramento in vista del Palio di Legnano, che si correrà a metà settembre, in servizio di Elena Casero con immagini di Walter Todaro di agenzia Publifoto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bene, con questo è tutto. L'appuntamento, contrariamente al solito, per tutto il mese di agosto sarà sempre e solo alle ore 19 con il notiziario di Prefina.it. Buone vacanze a chi va e buon mese di agosto a tutti.